Dopo averlo lasciato con un lettera, Soleil sorge e si riavvicina virtualmente a Luca Onestini, questo l'ultimo gossip sull'ex coppia di uomini e donne. Sono ore movimentate quelle che stanno vivendo alcuni protagonisti del recente passato di uomini e donne, un inaspettato gesto fatto da Soleil sorge sui social network, infatti, ha scatenato nuovi gossip sia sul rapporto con Luca Onestini, che su quello che Marco Cartasegna. Se nelle interviste e sui suoi profiti la ragazza dichiara amore al fidanzato, su Instagram poco tempo fa ha apprezzato una foto dell'ex, illiche di troppo, che la corteggiatrice ha messo ad uno scatto del geffino e stato rimosso quasi immediatamente, ma non abbastanza in fretta da innescare chiacchiere su questo triangolo. Gossip Ueli, Soleil mette mi piace a Luca e il web impazzisce. Le strade di Luca Onestini e Soleil sorge sembravano essersi definitivamente divise qualche mese fa quando, nel corso di una puntata del grande fratello VIP, lei mise fine alla loro relazione con una fredda lettera. Terminata l'avventura nel reality di Canale 5, poi, il modenese ha ribadito più volte nelle interviste di non avere intenzione di rivedere la ex ed avere un chiarimento con lei. Attraverso i social network, però, l'ex corteggiatrice ha riacceso i gossip sul suo legame con l'uomo al quale ha detto sì negli studi di uomini e donne, qualche ora fa infatti, Soleil ha inaspettatamente messo mi piace ad una foto, che Luca ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La cosa, che maggiormente suona strana in tutta questa storia, è che la sorge non segue il tronista sul popolare e sociale Illiché, che inavvertitamente ha messo è ad un'immagine postata più di due giorni prima, quindi non recentissima. Che la bionda di origini americane sia andata a sbirciare la pagina di Onestini e involontariamente le sia scappato un apprezzamento di troppo? C'è da dire che, non appena si è resa conto del gesto, che aveva fatto, Soleil ha rimosso il mi piace alla foto di Luca ma ormai i più curiosi avevano visto e documentato tutto con uno screenshot, chi in queste ore sta facendo il giro del web? Bossip, Marco Cartasegne deve temere l'ex rivale Luca? Le domande, che si stanno facendo in queste ore gli appassionati di gossip sono, come mai Soleil è andata a sbirciare il profilo Instagram di Luca, e soprattutto, come avrà reagito il suo attuale compagno, Marco Cartasegne, nello scoprire tutto? Anche se la sorge ha cercato di rimediare quasi immediatamente al danno fatto, in tanti si sono accorti dell'Ike, che ha messo al suo ex e gliel'hanno fatto notare commentando, almeno stal che era bene, la frase ovviamente è riferita al mi piace che sicuramente è scappato alla ragazza mentre dava un'occhiata alle ultime foto, che ha pubblicato Onestini. Cosa sta succedendo tra i tre protagonisti di uno dei triangoli amorosi più fiacchierati degli ultimi tempi? Soleil è davvero innamorata di Marco come sostiene sui social e nelle interviste, oppure nel suo cuore c'è ancora il tronista, che la scelta ha uomini e donne? Al momento non abbiamo risposte a queste domande, ma le reazioni, che avranno nelle prossime ore tutti i personaggi al centro di questa storia, sicuramente aiuteranno a capire se presto ci saranno altri interessanti gossip di cui discutere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.